Simona Ventura svela le anticipazioni del collegio che partirà dal prossimo 22 ottobre. Super Simo è pronta a iniziare una nuova avventura televisiva in Rai. Si tratta del reality giunto ormai alla quarta edizione che catapulterà i ragazzi di oggi in una scuola del passato. L'anno di ambientazione è il 1982, per questo i vertici dell'azienda di Viale Mazzini hanno scelto Simona Ventura come voce narrante. La conduttrice che andrà a sostituire Giancarlo Magalli ha rivelato qualche anticipazione sullo show durante un'intervista rilasciata da Fabio Fazio. Sta per partire il collegio su Rai 2 il 22 ottobre, ha spiegato a che tempo che fa. Ed io faccio la voce narrante perché parliamo dei nostri anni, gli anni 80. Tu non hai idea delle pettinature, questi ragazzi sono un po' i nostri figli. Il momento del parrucchiere e delle regole, è tutto cambiato. Quest'anno il collegio raddoppierà, andrà in onda infatti un reality in tv e uno spin-off sul web. Quest'ultimo verrà condotto da Niccolò Bettarini, il primo genito della conduttrice, nato dal suo amore per Stefano Bettarini.